La vittoria del gruppo, io sono stato un artefice di questa vittoria, però è il gruppo che ha vinto, come ha vinto l'anno scorso lo Scudetto. Conte cosa le ha detto? Non ci siamo visti così, ci siamo abbracciati, abbiamo stappato una bottiglia assieme e poi ne parleremo dopo. L'analisi di questa partita, aspetti positivi e aspetti negativi? Positivi che abbiamo fatto la partita, abbiamo fatto la partita cercando di fare il nostro gioco. Ma rispetti negativi che ancora una volta abbiamo preso due gol contro il Napoli, come è successo in Coppa Italia, che lavorando si possono evitare. Bisogna lavorare soprattutto sugli errori di reparto, perché gli errori dei singoli ci stanno, solo chi non gioca non li fa. Però Leonardo è un campione, quindi le scivolano tutti addosso e ha fatto una grande partita. Nonostante i quattro gol, l'attacco sembrava soprattutto nel primo tempo un po' spento. Si è acceso con Vucinic. Serve? Comunque dal punto di vista numerica ce l'ha detto anche Marotta o qualcosa lì davanti. Sicuramente serve perché abbiamo tre competizioni, quindi serve. Però, ripeto, adesso guardiamo a quello che dobbiamo lavorare per migliorare le situazioni negative. Dispiaciuto per non vedere il Napoli ricevere la medaglia alla fine? No, dispiaciuto. Noi quando abbiamo perso la Coppa Italia ci siamo fermati a battigli le mani, perché quando una squadra vince è giusto che l'altra che perde li renda merito.